Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Tamponato da un'auto dopo essersi fermato con lo scooter per far attraversare un pedone, finisce in ospedale. È accaduto nella tarda mattinata di ieri intorno alle 13 sul lungomare Italia, Marzocca di Senigallia. Alla guida dello scooter Suzuki si trovava un 42enne nigeriano residente a Chiara Valle. In prossimità delle strisce pedonali l'uomo si è fermato per fare attraversare un pedone. In quel momento però la onda che si trovava dietro di lui l'ha tamponato. Forse la donna al volante, una 48enne di Monte San Vito, non si era accorta che si fosse fermato. L'impatto è stato molto violento, il 42enne è finito a terra riportando vari traumi. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata l'ambulanza. Gli è stato assegnato un codice rosso per la dinamica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato caricato sull'ambulanza e trasferito all'ospedale di Torrette. La rabbia delle donne di Fabriano costrette ad operarsi al seno a Senigallia con il chirurgo in trasferta e non più al profili. Il dottor Angelo Cavicchi, direttore dell'unità senologica multidisciplinare di Area Vasta 2, parla di progresso della medicina che lavora in echipe della ricerca e non di una punizione per l'ospedale Profili. In primo piano la paziente affetta da tumore al seno. Direttive europee italiane basate su approfonditi studi clinici, dichiara, ritengono indispensabile che il trattamento dei tumori della mammella sia delegato a specialisti dedicati che lavorano assieme in unità operative senologiche multidisciplinari, le breast unit. Non più chirurghi isolati, quindi nel proprio ospedale, ma lavoro di equip. La direttiva del Ministero della Salute ribadisce che le patologie mammarie debbano essere trattate da specialisti competenti che devono lavorare in simbiosi. Marco Mengoni, Neck, Edoardo Bennato, Vinicio Capossela, Tosca, Pacifico e artisti a sorpresa in altre due date. Saranno alcuni dei protagonisti della terza edizione del festival Risorgi Marche che torna nei prati marchigiani del Maceratese, del Fermano e dell'Ascolano, quelli colpiti dal sisma, con una serie di concerti a ingresso gratuito tra l'11 luglio e il 7 di agosto. I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno arrestato un 38enne residente a Belvedere Ostrense per reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato beccato in auto con cocaina contenuta in alcuni ovuli. La droga è stata sequestrata per la confisca e la distruzione. Ieri mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto rinviando il giudizio all'udienza fissata il 21 novembre prossimo. La giornata del Caterraduno è iniziata stamattina con le prime luci dell'alba. A salutare il sorgere del sole è stato l'attesissimo concerto di Mahmoud, il vincitore di Sanremo 2019, da poco arrivato secondo all'Eurovision Song Contest. Le dirette torneranno nella serata in attesa del grande concerto al foro annonario di Noemi. Ancora spettacoli perché si rinnova per il ventunesimo anno consecutivo l'appuntamento estivo con il Tau Teatri Antichi Uniti, la rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale gradevole di beni e attività culturali offre l'opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione. Tra i vari borghi marchigiani interessati appuntamenti anche a Castelleone di Suasa e Corinaldo. È tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto. Grazie a tutti.